Aia Luca! Sara finalmente si è decisa, ha installato Tinder! No, non iniziare questo video così perché la mia non è stata un'idea! Allora, ha installato Tinder, è venuto da me e mi fa Luca voglio installare Tinder per trovare il mio amore Io gli ho detto Sara ma sei sicura? Sì sì sì, allora l'hai installato! No raga, veramente un fa... Allora, allora io non volevo farlo questo video, infatti metterò delle foto fake Non metterò le mie! Eh sì perché lei non si vuole... Sì sì, ma che schifo, mamma è uno schifo Comunque, accediamo, creiamo subito un account di Tinder Perché faremo una cosa molto divertente Fatemi sapere se questa sera vi piace, mi raccomando Accediamo con i di Apple Eh direi proprio di no, accediamo con Google Ma va, con i di Apple Censura ste robe, mica mi che mi tossono Crea nuovo account Questi qui sono tutti i passaggi che voi purtroppo non potete vedere Ah, sfigati sto l'***o, sì Ci siamo, ti diamo il benvenuto su Tinder Ah, accettiamo ragazzi Questo qui sarà il profilo cruciale di Sara su Tinder Quindi se vuoi lo usate Inserisci il tuo nome Io metterei Sara No! Dai mettiamo... Ma raga, mettiamo un profilo Sofia, 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 Sofia Ragazzi, è credibile il 2003, dai 2003, avanti Quello è il tuo genere Io metterei... Sì dai, donna Così mi chiamo gli uomini Poi è più divertente Ah, dai Mostra genere sul profilo Perché tutti devono sapere che sei una vera donna Qual è il tuo orientamento sessuale? Allora, allora Io direi abbastanza etero Esatto Avanti E chi ti interessa vedere su Tinder Io direi uomini Cioè donne Tutte, tutte No, solo uomini Ma io voglio anche donne Allora, scegli la distanza massima Io direi di mettere max Quindi praticamente possono apparirti anche persone di 161 km Ok, vai Mi piace Ci siamo Cerco qualcuno per relazione seria Relazione seria Ma vediamo Niente di serio Ma vediamo Niente di serio Dio dai di mettere niente di serio Ma come l'hai? Ma dai Ma Luca Ma non voglio fare... Eh, sai Sono una persona che ho cercato di latimento Dove vai? Dove andavi a scuola? Bocconi 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 Su così veloce Foto Allora, allora Abbiamo stanzionato delle foto Attenzione Consente C'è su tutte le foto Galleria Esatto Roba è presa da Pinterest Io direi di mettere Allora questa Ed è perfetta Facciamo così Boom Io ne metterai soltanto tre Ora Consenti la tua posizione attuale Così ti trova tutte le persone nelle vicinanze Magari trovi qualche tuo amico Eh Attiviamo le notifiche perché è importante attivarle No Luca Che poi magari quando sono in giro mi esce la notifiche di Tinder Effettivamente C'è però da personalizzare il tuo profilo Ma tu perché sai come si fanno questi passaggi? Scusami Perché io so come un animale Qualcosa su di me? Cosa scriviamo? Sono una ragazza intraprendente No, sono molto intraprendente Sono molto intraprendente Mi piace studiare Mi piace studiare E sono in cerca di un uomo E sono in cerca di un bell'uomo Bel scritto in maiuscolo così Uomo Ok E ora ci mettiamo anche un emoji molto particolare Di un bel omone Questa Dai no Luca Dai Ok Va bene va bene va bene Aspetta aspetta Sono piccolina Virgola Aspetta 1 e 56 Dai ci sta Ok va bene Ok tira Aggiungi altezza Appunto mettiamo 1 e 50 Non si capisce nulla di questa altezza Quindi la togliamo Tipo di relazione mi interessa Po di amore No dai relazione aperta Qualsiasi tipo di relazione Ok ok Così va bene tutto C'è più scelta Dai basta va bene così Va bene Segno soggete Tutte le storie qui Non le mettiamo Fine Ora dobbiamo andare praticamente A giudicare le persone che vediamo Quelle che ti piacciono Gli metterai like Eh ma perché Silenzio Vai iniziamo Leggi anche la bio Attenzione Allora Matthew Guarda un po' No che c***o Scusate non so come funziona Marco Voglio mettere una X Non ti piace Marco Ah no aspetta ti spiego come funziona Il cuore vuol dire che ti piace La X vuol dire che non ti piace Gli altri non cagali Che questo qui Questo qui mi sa che è tipo una roba a pagamento La salina non ne ho la minima idea E il coso all'indietro è per voi indietro ma serve il plus Puoi leggere anche quello che scrivono loro Tipo Angelo 29 Vino rosso bianco Ho inserito il sogno di sacale Così le astrologhe sono già informate Ok Già mi è stancato Vino rosso bianco per te saltiamo Dato che tu non puoi bere Salvatore Ma guarda anche le altre foto almeno Ale Uchica non mi piace la descrizione che si sta scrivendo Ma guarda le altre foto Guarda anche ma guarda anche le altre foto Davide Davide Se vi faccio possiamo sentire su Instagram Oh oh Però guarda che ma perché Ma non mi piace Leo Leo eh Leo Leo gas Guarda un attimo bene Però capito già che sta su Tinder Cioè non è Non è Vuol dire che parte male È un punto in meno Milano Milano Leo è diminutivo di Stefano Cosa vuol dire però Eeeh 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 Carino lui molto carino Ehi ma è cuore Cuore Magari pure ricco Cuore Vabbè gli metto il cuore perché è carino eh Eeeh Leo se sei venuto a questo video Luca 28 Atleta sport Viaggiare Cagli aperitivi Attenzione Studi all'università degli studi di Milano Lazzaroni Mattia 19 Questo mi sembra tipo un marazza col borsello Fermo Prima di continuare il video Controlla di essere iscritto al canale E se non lo sei Fallo subito Deni 29 Qui per un gillermo e una nuova conoscenza Salta Tu non puoi bere Salta Eh no Dai Luca No 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 Eh no Antonio non piace Valeria è troppo grande Tommaso non ha foto Jacopo 28 Guarda Jacopo Eh eh Non mi piace Dai Andrea Ma perché No stop Dobbiamo fare una cosa Ti trovo gente troppo grande Ci sarà un modo per trovare gente più piccola secondo me Mattia Eh Eh Ma perché No adesso devi giustificare Ok te lo giustifico Non è una persona che mi interessa Ma che giustifica è Francesco Edoardo 23 Guarda un attimo bene questo Edoardo Perché a me sembra un ragazzo Perché È scavato il dito Cos'è super like E io gli metto il like a Leonardo E invece gli hai messo il carlo Dai carlo Già che fa surf Concerti Politica Eh 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 Esageriamo Non esageriamo Vai Gli metto un cuoricino Ma non esageriamo Carlo Carlo Fabrizio Corona Ma no ma no ma 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 perché qua non lo vedi che belli E li avrà tagliati nella foto dopo Sara No Fabrizio non mi piace Non ti piace Fabrizio Riccardo 22 Yogurt greco e miele Non condisco l'insalata per grizioni è Facciamo così Stop un secondo Sara Se tu dovesse consigliare una distruzione ad un ragazzo Cosa gli consiglieresti Cosa vuol dire centimetri del pe**o Tipo mi piace fare sport appunto Bellissimo ragazzi Tu cosa hai scritto? Eh io come ho scritto mi piace fare sesso Voglio trovare delle ragazze Dai Luca toghi Ti giuro Vorrei far riuscire un video su Tinder dove faccio un appuntamento come andato in cuffia Il prima che ha vinto l'account bannato È proprio così Luca Luca 22 Ma guarda tu Allora Ma era l'ultima foto Gli avevo tornati tutti Dai a mettere fuori Va bene però soltanto me lo devi a me Ahia Luca non sei scemo Esatto Lorenzo 22 Perché hai 41 persone a cui Già ti hanno messo like Ma non ci credo Ma com'è possibile? Lorenzo Lorenzo X Dai non è nessuna fuga Julian 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 cuore No no vedi perché non voglio farlo tenere a te No decido io Ma cosa decidi tu? No mi faccio incazzare Decido io No mi ti faccio incazzare No no si incazzano No 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 Giorgio un bel ragazzo eh Dai Giorgio metto il cuore Eh certo mi metto il cuore Samuel Dai è grosso Non è il mio tipo Cuore No Luca ma te lo giuro Non è il mio tipo No Dai va bene Match Puoi scrivergli un messaggio Ma no Oddio Scriviamo No Luca No Non sanno che sei tu Non sanno che sei tu Non sanno che sei tu Luca Dai il cuore a Simone No È la qualità Michele Zanetta Dai Dai Michele Zanetta Non si scherza Nico Eh Nico non è male eh Molto bello sì Ah è cuoricino a Nico Andrea sono molto interminata Questo sembra quello di The Show Dai No ok scherzavo Non ho sbagliato Oh mi ha messo il cuore No raga ho sbagliato Sì Sì Perché Manuel X No lo so X Sergio Guarda avanti Perché Sergio X Dai Sergio è un bel ragazzo Guardalo 22 Ma dai Giovanni Martino Dai Giovanni Martino Ma tu dici che devo matchare tante persone Eh sì Secondo te Secondo te Caratteristiche che dovrebbero avere i ragazzi Per piacerti a te Dove essere carino Devi sembrare puccioso della faccia Puccioso della faccia Sì non troppo puccioso Ok questo Michele Ecco l'apparitivo Cuore No E vedi Luca ti dico una testata No 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 Alex Cuore anche lui No Oddio Fermo Fermo Ti ho scritto Ciao Sofì Se mi considerassi un bell'uomo sarebbe poco modesto da parte mia O potrebbe starti bene Perché a questo punto mi candito Rispondigli Cioè questo è stato sul metodo di approccio Rispondigli Sei molto carino Che faccia viva questo Ma è quello che hai vinciato Che dai Luca Ma veramente Ma perché non ti piace Ma leva sta roba Dai Sei molto carino Dai ci sta Ci sta Sei molto carino Devo Questo Eh vieni di no Via 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 Riccardo Davide Questa foto qui Allora ragazzi Il video può terminare qui Ma meno male che mi sono staccata Sara è stata super onesta Ha messo tutti i voti che gli piacevano Certamente E non ho rimbocchiato però Per ora perché abbiamo appena lasciato like Se questo video arriva a 10.000 like Attenzione perché risponderemo alle chat E continueremo E magari andremo a creare un appuntamento romantico Lasciate like e iscrivetevi Grazie a tutti i nostri del video